Non è una discussione in quanto la relazione... Nessun ruolo essenziale della Regione sul caso Stamina e la necessità che il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco prendano una posizione. Sono tra le conclusioni della relazione emersa dall'indagine conoscitiva sul metodo Stamina portata avanti in questi mesi dal Consiglio regionale. Un documento di 39 pagine che è stato illustrato in Commissione Sanità e su cui nei prossimi giorni comincerà la discussione. I dati effettivamente rilevano che non ci sia una responsabilità diretta di Regione Lombardia su questo in quanto il caos normativo che vige su questo tipo di cura è stato evidente appunto dalle audizioni effettuate. Ecco perché in conclusione di questa indagine si chiede al Ministero e AIFA e quindi alla politica che legiferi in modo determinato e preciso per evitare che questi casi indeterminati si verifichino ancora. Dalle opposizioni è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti e integrazioni, non escludendo anche la presentazione di una relazione alternativa che sottolinea in maniera più evidente responsabilità e criticità. Dopo il voto in Commissione i testi saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio regionale ed eventualmente discussi in aula.